Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Allora, mi auguro ovviamente che stiate tutti bene, ci mancherebbe altro. Dobbiamo tornare a parlare un pochino di una situazione molto 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 importante. Guardate che vado a prendere subito la notizia per parlare ovviamente ragazzi con voi perché c'è una piccola novità che sinceramente mi fa veramente molto pensare, mi fa veramente stare insomma un po' al tappeto. Perché ovviamente la Juventus sta cercando un centrocampista, sapete, di assoluto livello, sta cercando insomma un giocatore che sappia quello che deve fare, che sappia quello che può fare, ma oltre a questo sta cercando anche di capire la propria posizione all'interno della Superlega. Perché molta gente mi ha detto, mette, ma la Superlega, la Juventus è uscita perché la Porta aveva detto che la Juve non c'era. La Porta non ha mai detto questo, la Porta ha fatto un elenco di club che ci sono, non ha detto la Juve non c'è. Non l'ha mai detto, quindi chiariamo questo. Ma fra poco vi spiego una cosa, perché è successa una cosa clamorosa, incredibile, che fra poco noi dobbiamo andare appunto a discutere. Però prima, prima di cominciare a parlare, che dobbiamo fare? Tre cose ovviamente molto semplici. Discrizione, solito like, solita campanellina, sempre le notifiche, rimane sempre aggiornate, mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, voi non riuscite a vedere i video. Quindi se volete continuare a guardare i video e ad essere aggiornati, mi raccomando, fate questa cosa. Se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Questo è davvero molto importante. Allora, Seferin, presidente UEFA, ha annunciato che non si ricandiderà per le elezioni del prossimo appunto presidente. Voi sapete che all'interno della UEFA si elegge il presidente ogni, se non sbaglio, il mandato, insomma, dura qualche anno, 4-5 anni, se non erro. Quindi, insomma, dopo 4-5 anni si fanno le elezioni e si elegge un nuovo presidente. Bene, lui inizialmente si voleva ricandidare, no? Ha detto, ma sai che c'è? Continua a fare il criminale appunto autorizzato. E invece adesso ha dato questa notizia mediante la quale lui ha detto, no, io non mi ricandido, me ne vado via. Ovviamente io godo come il porcone, proprio i porci, quelli nelle fattorie che sguazzano, noi godiamo in quel modo là. Perché vuol dire che c'è un segnale forte da questo punto di vista. Perché c'è un segnale forte? Perché è ovvio che ci sia un segnale forte. Perché la Superlega è stata giudicata legale, sapete bene, dalla sentenza dell'europea. Quindi la Superlega si può fare, è una competizione che può assolutamente essere appunto organizzata e lui non ci può fare niente. Perché lui non ci può fare letteralmente niente da questo punto di vista. Quindi è normale che lui, sentendo un po' puzza di bruciato, sai, come quando tu fai una torta e quella si brucia nel forno, sentendo un po' puzza di bruciato, ha deciso appunto di andare via. Dice, arrivederci, vada, me ne torno, insomma, nella mia città, me ne vado a fare la bella vita con i soldi dei cittadini o della UEFA e arrivederci. Allora, questa è una notizia importante. Perché la notizia è importante? Perché l'equilibrio del calcio europeo sta cambiando e sta cambiando in maniera clamorosa, secondo me. Io credo che ci sia una sorta di non comprensione di tutto questo. Nel senso, la UEFA è un'organizzazione che, vuoi o non vuoi, ha comunque un potere in mano che attualmente sta cercando di avere un atteggiamento sbagliato. Perché qui nessuno ha detto alla UEFA che non si può collaborare o che non si poteva instaurare una sorta di, diciamo, dialogo con la UEFA tale da poter creare le competizioni necessarie. Dal momento in cui è nata la Superlega, dal momento in cui la Superlega è cominciata ad emergere, la UEFA subito ha pensato al male, subito ha pensato a cose sbagliate, ha pensato a cose negative, ha pensato a cose che non avessero attinenza con la realtà. Abbiamo vinto la causa legale che legava ovviamente questo argomento al resto e quindi di conseguenza adesso la UEFA è costretta ad approvare ovviamente una situazione mediante la quale la Superlega deve comunque partire. Questo si traduce, arriva a finire tutto questo, arriva a tutto questo, a Seferin che a un certo punto se ne va. Quando mai avete visto tutto questo? È chiaro che le situazioni stanno cambiando, è chiaro. È chiaro che Seferin, sentendo questa situazione, ascoltando un po' quello che c'è in giro, diceva a me chi me lo fa fare di continuare giustamente a fare questo ruolo, che è un ruolo comunque importante, comunque di livello, chi me lo fa fa? Arrivederci, non me frega niente, ciao, me ne vado. Questo è un segnale bello forte, perché la Superlega vive. è vera e qui continua ad essere da questo punto di vista molto, molto, molto importante, molto, molto, molto interessante, quindi è un tipo di, diciamo, un tipo di competizione che dà problemi al potere, diciamoci la verità. qualsiasi cosa sia diversa da problemi alla massa, ok? Da sempre la diversità è orientata ed è vista come una sorta di problema generale, diciamo, della propria situazione. Nel senso, ci siamo arrivati, da questo punto di vista, ad un punto in cui sussiste un problema culturale, generazionale. La vecchia generazione sembra più ancorata un po' alla Champions League, no? Questa idea dell'Europa che deve rimanere così, della Champions League che non può cambiare, della UEFA che deve tenere la responsabilità, che deve possedere questo controllo. Invece la nuova generazione, la mia, quella dei ragazzini più piccoli di me, quella dei ragazzi un po' più grandi di me, ma sempre comunque molto più orientati verso una cultura più moderna, sono invece, appunto, orientati, sono, diciamo, volti verso la Superlega e verso quello che la Superlega porterà. Ora, la Superlega, io te lo voglio tornare, ripete, per la quattrocentesima volta, non è una competizione che sta avendo problemi, perché sento tanta gente che mi scrive e mi dice, Matt, ma come? Come, Matt? Allora, tu hai detto che la Superlega è stata la Superlega e invece ho sentito che molti club sono andati via. Ragazzi, vi dico una cosa, quando sentite queste cose, quando andate a sentire queste cose, quando ascoltate queste dichiarazioni, sappiate che c'è una bugia, va bene? Dentro la Superlega ci stanno tutti, tutti, anche quelli che voi non pensate, sono dentro, tutti, sono tutti dentro, va bene? Perché nessuno resterà lì guadagnando di me. È una questione di soldi, va bene? Facciamola, diciamola nella maniera più volgare possibile. Siamo volgari per una volta, posso essere volgare per una volta, posso parlare di soldi per una volta? Parliamo di soldi per una volta. È una questione di soldi. È una questione di soldi. Attualmente, la capacità economica, che purtroppo esiste all'interno del discorso europeo, è da affrontare con i premi della Superlega. La Superlega dà molti più soldi ai club. Quindi è normale che un club, interrogato su quello che dovrà fare, preferirà andarsi a giocare una competizione in cui gli danno il triplo rispetto a stare nella UEFA Champions League. È così. È così. Quindi non è una questione di scelta o non scelta di morale. La gente ne fa una questione come se si stesse parlando di politica, come se stessimo parlando di destino dello Stato italiano o mondiale, degli Stati mondiali. È una competizione di calcio. È una competizione di calcio. Cioè, non cambia il mondo se tu va a fare la Superlega o va a fare la Champions League. Io questo ti sto dicendo. Non cambierà niente. Non cambierà niente. Semmai. Cambierà a livello positivo. Ma non è che se crolla qualcosa. Non c'è niente di male nell'andare a fare una competizione che sia diversa. Una competizione che abbia un modo di fare diverso. Un modo di essere diverso. Un modo di rappresentare diverso. Non c'è niente di male. È questo che voglio far capire a chi è contro la Superlega. Perché sembra che ogni volta che si parla dalla Superlega, sembra che c'è qualcuno che dice no. Ma che scherzi? Va a fare la Superlega, sei pazzo. È una cosa sbagliata. È una cosa errata. Ma come? Non può essere. Ma no. Ma noi dobbiamo dare i buoni esempi. E' un buon esempio di che? Il buon esempio lo deve dare la UEFA cercando di creare delle cose. Non noi. Noi siamo i club. Siamo i club e andiamo laddove c'è più possibilità economica. Ma è normale, ragazzi. Ma il discorso è semplice. Ma perché io devo rimanere nella UEFA e devo guadagnare molto meno se posso andare nella Superlega e guadagnare di più? Il discorso è tanto elementare. E invece vedo che molte persone, ripeto, a grandi di età, quindi gente esperta di un certo livello, continua a non capire l'importanza di questa cosa. E sta dicendo una marea di cavolate. Sta dicendo una marea di cavolate. Perché forse non capisce il punto qual è. che non è XY vanno lì. Ma è questo. La livello proprio con... C'è un problema. Capite qual è il discorso? Capite che c'è un problema? Allora, se è questo problema, si può risolvere con questa Superlega. Ma perché io non la posso risolvere? Perché io non posso andare dalla Superlega, sedermi e dire, bello mio, voglio accomodarmi e voglio sedermi per fare la Superlega. Tanto la Superlega la faranno tutti. La faranno tutti. Punto. Questa è una cosa che si farà... A livello proprio... Proprio... De tutto. De organizzazione. De soldi. Eh. Mi sembra di parlare arabo certe volte. Non con voi. Non ce l'ho con voi. Io ce l'ho con la gente. Spesso io faccio una cosa. Io ho dei... Sono molto molto riservato. Non nelle cose online, nei rapporti. Perché? Perché io non intervengo mai nei commenti degli altri. Nel senso, certe volte mi capita di stare all'interno dei... Sapete? Dei forum, o delle pagine Facebook, delle pagine Instagram. No. Vedo i commenti della gente che parla della Superlega quando c'è un post dedicato alla Superlega e non intervengo mai. Ma voi non potete immaginare quante cavolate io leggo. È una cosa impressionante. Quindi è una cosa che da questo punto di vista io faccio fatica a comprendere come si possa proprio nella testa di una persona dire la UEFA è buona, no, la Superlega, no, ma come si fa? Ma hai visto tutto quello che hanno fatto? Hai visto tutto quello che stanno facendo ancora oggi la UEFA, ragazzi? Ma come? Serve un disegno? È impossibile. Cioè stanno letteralmente dando problemi. Tutti i giorni danno problemi. Allora di che si sta a parlare? E c'è gente che vorrebbe che la Superlega si fermasse, che non ci fosse la Superlega. Ma voi dovreste veramente creare la competizione, mettervi lì a fare il ballo da cucaraccia per la Superlega. Ve lo dico io, ragazzi. Fidatevi una volta di questo tizio. Ve dovreste essere contenti che parte la Superlega. dovreste davvero essere contenti che possa partire la Superlega. Lasciate perdere le polemiche, lasciate perdere le cavolate degli altri, tutto quello che si dice della gente che non è informata sull'argomento. Date meretta per un secondo, che in questo caso lo seguo da tre anni per un motivo. Dovreste essere contenti, ragazzi. Date meretta. Fidatevi. Siate felici di questa cosa. Non vi allontanate da questo argomento. Capite qual è il discorso? Non vi allontanate mai da questo piccolo argomento di cui noi stiamo parlando. Non vi allontanate, va bene? Questa è una cosa veramente molto, molto, molto importante. Quindi, fatemi a sto punto qua, parlando, avendo parlato di tutto questo, avendo fatto questo discorso, avendo compreso le dinamiche quali sono, vi invito da questo punto di vista a fare che cosa? A comprendere. Quindi, ragazzi, fatemi sapere un pochino voi nei commenti che ne pensate voi di questo argomento. Ciao.